Nelle ultime 24 ore sono successo un paio di cose che mi hanno dato da pensare. Il primo fatto riguarda un appartamento da circa 65.000 euro, 65.000 memorizza bene, che un nostro conoscente, contro la nostra opinione, aveva riservato con caparra circa 6 mesi fa. Si accorse immediatamente che la casa aveva gravi problemi strutturali e di installazioni, nonché di vicinato, e quindi decise di provare a rivendere la sua opzione. Capitò che fosse proprio il nostro cliente ad interessarsene, ma avendoci informato delle sue intenzioni, gli spieghiamo cosa chiedere all'agenzia e a cosa fare caso, e rinunciò immediatamente dopo la visita. Poi oggi, un altro nostro cliente decide di non dirci niente e firma l'affare per 72.000 euro, 7.000 euro in più per quello che altri avevano rifiutato per 65.000, e che presto si accorgerà essere solo un problema. La seconda cosa, invece, è un signore che è entrato nel nostro ufficio, dichiarando che voleva comprare una casa a Tenerife, nota bene, non a Costa del Silenzio dove operiamo, a Tenerife, e ci ha sparato una raffica di una ventina di questioni relative all'argomento su cui voleva essere informato. Voleva, non chiedeva. Gli diciamo che non erano argomenti di 10 minuti e via, e che servivano ore per dargli informazioni valide, e che per quello facevamo consulenza apposite. Lui ci guarda stranito e ci dice E' la prima volta che mi chiedono dei soldi per avere delle informazioni. E al che gli rispondo Non faccio fatica a credersi. Se quelli che non hai pagato ti avessero dato delle buone informazioni, oggi non avresti tutte queste domande. E a questo punto l'abbiamo visto girarsi e uscire sbrobottando dalla porta. Questi due accadimenti mi hanno fatto riflettere su quante persone ancora si approzzino al comprare una casa a Tenerife senza la minima conoscenza di dove stanno mettendo i loro soldi, di chi sono le persone a cui si stanno appoggiando e di cosa dovrebbero sapere valutare prima di comprare casa a Tenerife. Ora, so già che non sarà questo video che cambierà le cose e che continueranno sempre ad esistere i compratori che poi si lamenteranno di essere stati truffati, invece che, ammettero onestamente, di essersi comportati in maniera poco intelligente. Tuttavia sono un ottimista e spero sempre che quello che spiego possa essere utile ad evitare problemi almeno a qualcuno di questi potenziali acquerenti votati al disastro. E quindi voglio offrirti due brevi video, non tanto brevi, in cui ti spiego le 15 cose che non devi assolutamente fare se vuoi comprare casa a Tenerife, più una cosa che è in assoluto la più importante che dovresti sapere e non la sai. Ciao, sono Massimo e sono un consulente dell'Agenzia Casa Ora. Prima di cominciare ti premetto che il tempo è tiranno e che nei pochi minuti di questo video non potrò approfondire pienamente le varie questioni. Pensa che le consulenze che facciamo sull'argomento immobiliare durano circa tre ore e quindi diciamo che lo scopo principale che mi propongo è di farti riflettere sull'importanza di avere certe informazioni e su quanto sia molto più proficuo sapere che considerazioni fare prima di spendere una grossa fetta dei tuoi risparmi. Perché se vuoi comprare casa a Tenerife per viverci o per fare un investimento o anche solo per non lasciare che i tuoi risparmi spariscano mangiati dall'inflazione ci sono 15 cose più una che assolutamente non devi fare. Pronto? Cominciamo! 1. Non scrivere alle agenzie che cerchi casa a Tenerife e vuoi informazioni. Le informazioni che vuoi, e intendo le vere informazioni, quelle che ti saranno davvero utili a evitare costosi errori, servono ore per darle. Prova a chiamare un avvocato, un ingegnero, un medico specialista e digli Ehi, vorrei delle informazioni e vorrei fare una chiacchierata di due o tre ore. Quando posso passare? Probabilmente ti riattaccheranno il telefono, oppure ti diranno quanto monta la tariffa per le consulte. Quindi, le informazioni che ti servono per comprare casa a Tenerife o le paghi prima, oppure compri casa e poi ti accontenti delle informazioni che ti daranno e tieni le dita incrociate, sperando che siano veritiere e che non ti nascondano niente per paura di perdere la vendita. Questo è esattamente quello che poi succede spesso perché, ma davvero ti è così difficile capire che, se le informazioni che sarebbe importante avessi rischiano di fallire una vendita, non te le daranno mai? Due, non dovresti mai lanciarti in giro a cercare una casa. Dovresti prenderti il tempo necessario per selezionare un'agenzia di fiducia che te la trovi. Una delle cose che mi diverte di più è quando le persone entrano nella nostra agenzia e appena dicono, vorremmo trasferirci, vorremmo comprare una casa, noi gli rispondiamo, onestamente non te lo consiglio. La faccia che fanno spesso è veramente impagabile. E un paio sono persino usciti a controllare se erano entrati nel posto giusto. Il punto è che quando diciamo che la nostra filosofia di lavoro è soddisfare le aspettative dei clienti e non vendere appartamenti, intendiamo dire che l'acquisto di una casa è una scelta importante, ancora di più se effettuate in una nazione straniera. E quindi, se ci si vuole trasferire a vivere, prima bisogna fare una serie di valutazioni e conoscere l'isola a sufficienza per essere davvero sicuri che si sta prendendo la decisione più ottimale. Invece, prova a entrare in una qualsiasi altra agenzia e proclamare che vuoi comprare una casa e vedrai in che tourbillon di visite ti troverai coinvolto. Perché? Perché non gli interessa cosa vuoi tu, gli interessa venderti un appartamento. Magari, dai un'occhiata a questo video per capire meglio cosa voglio dire. 3. Se è la prima volta che compri casa a Tenerife, non devi mai pensare che i buoni affari aspettino te, ma devi prendere atto che tu sei un buon affare, per chiunque ne sappia più di te. Quello che voglio dire è che tu puoi aver comprato anche un milione di case in Italia, ma qui la legislazione è differente, la lingua non è la tua, le tutele sono affidate solo al professionista a cui ti sei appoggiato e tutto quello che sai non ti servirà a un piffero. Quelli che qui chiamano il sabelotodo, i cosiddetti su tutto io, sappiamo come finiscono, perché poi passano di qui a lamentarsi o dall'avvocato per cercare di salvarsi. 4. Non devi cercare casa prima di conoscere cosa dovrai fare per comprarla e a cosa stare attento. Te lo spieghiamo dettagliatamente in questi due video. Ma, se non li hai visto, permettemi solo una domanda semplice semplice. Accetteresti un lavoro senza prima sapere che cosa dovrai fare, quanto tempo ti occuperà e come sarai remunerato? Io non credo, eppure ti lanci nell'acquisto di una casa senza la benché minima idea degli step che dovrai percorrere, delle tempistiche che saranno necessarie, delle tutele su cui non devi transiggere e dei costi che avrà l'operazione prima e dopo o di quanto ti potrà rendere il tuo investimento. Davvero ti sembra una cosa normale? Magari sarebbe più normale, non perderti tutte le informazioni preziose che diamo settimanalmente su questo canale. E quindi... 5. Non devi metterti a cercare la casa che vuoi se non sei concretamente in grado di valutare se corrisponde al tipo di vita che vorrai fare o alla rendita che ti proponi di avere. Una casa non è solo pareti, mobili e finestre, ma è anche vicini, servizi, scuole, vita quotidiana e tutta una serie di situazioni che andranno poi ad influire sul tipo di vita che vorrai condurre o sulla resa che produrrà il tuo investimento. Pensi che sia uguale una casa in un condominio in mezzo al cemento piuttosto che in un resort con piscine e possibilità di socializzazione? Credi che è un appartamento dove è necessario prendere l'auto per qualunque cosa sia comoda come una con tutti i servizi a poche decine di metri? Ogni distinzione che caratterizza l'intorno della casa a cui stai pensando porta in sé conseguenze che determineranno la qualità della tua vita o la bontà del tuo investimento. Sei sicuro di essere in grado di valutare il tutto da solo? Sei? Non devi comprare una casa di due stanze se te ne serve solo una. Spesso la seconda camera viene richiesta solo nell'ottica di poter eventualmente ospitare un figlio o un amico, magari per una settimana o dieci giorni l'anno. Vuoi farti presente che una casa di due camere costa mediamente 30-40 mila euro in più di quella con una camera sola. Senza neanche pensare agli interessi che potrebbero fruttarti annualmente che 40 mila euro. Ma hai fatto il conto di quante settimane di vacanza puoi pagare con quei soldi a tuo figlio o al tuo amico? Quando e soprattutto se ti verrà a trovare? Probabilmente potrei farlo per i prossimi 40 anni. Poi certo, se proprio non sai cosa fare di quei soldi, allora sei liberissimo di comprare una casa di due camere. E sei libero anche di decidere che questo è il momento giusto per regalarvi. Sette, non devi cercare casa per te prima di essere sicuro della zona esatta in cui vuoi vivere. Non ci sono due sole zone uguali in tutta Tenerife e se alcune sono quantomeno simili, ce ne sono altre che sono assolutamente uniche. E guardo un po', per le persone è uguale. E anche tu non assomigli, se non che a grandi linee, né al tuo amico che già vive qui, né a me e a Monica che abbiamo scelto questo paese. Una cosa che diciamo spesso è che un trasferimento dovrebbe essere fatto in tre tappe. La prima di 6-12 mesi in affitto in una casa, in una zona complessivamente soddisfacenti, per se stimarsi, fare la documentazione e imparare a conoscere l'isola. Una seconda tappa di altri 6-12 mesi sempre in affitto, ma già nella zona in cui ti piacerebbe vivere. E solo dopo acquistare la casa dove stabilirti definitivamente. Guarda che te lo dico contro il mio interesse, perché io guadagno quando vendo casa. E se tu aspetti a farlo due anni, o addirittura compri in una zona in cui io non opero, non ci prendo una lira. Quindi medita attentamente su questo mio consiglio, che è solo ed esclusivamente nel tuo interesse. 8- Non devi cercare casa prima di sapere i prezzi medi. Le differenze tra le diverse urbanizzazioni e sapere esattamente cosa puoi comprare. Perché vieni qui a Tenerife a girare per agenzie chiedendo cosa puoi comprare con 80.000 euro? Se ti fossi preso un paio di ore per girare un po' gli annunci dei portali, sapresti che nella zona del Duque ci compri un garage grande, a Las America su un monolocale con vista sul nulla dove buttarci dentro almeno altri 20-30.000 euro di ristrutturazione, a costa del silenzio un monolocalino con terrazzino e al fraile un appartamento di due camere in condominio. Pensi che l'appartamento al fraile sia un affarone? Ecco, appunto, e i miei migliori auguri se esci la notte. So che può formale dirlo, ma bisogna essere più realista del re. E se si hanno i soldi per un panino, è inutile perdere tempo davanti alle vetrine delle pasticcerie. 9. Non devi mai cercare casa prima di aver calcolato le spese extra per comprarla e le spese successive per mantenerla. Ogni casa, ogni condominio, ogni urbanizzazione, ogni zona e ogni comune hanno spese implicite completamente diverse. E a poco ti servirà lamentarti dopo che non avevi idea che le spese mensili della tua casa fossero così alte. Ma devi mettere in conto anche le spese extra connesse con l'acquisto in sé. E tutte quelle successive, perché è normale, vorrei cambiare dei mobili, degli elettrodomestici, i materassi, i cuscini, il tavolo sbracciato della sala e quello cotto dal sole della terrazza. E alla fine ti sei fatto spiegare e quantificare da qualcuno cosa costa veramente comprare una casa. Ti confesso che sono i prossimi sette punti quelli più importanti, tra le cose che non devi mai fare se vuoi acquistare casa a Tenerife. Ma da buon giocatore di carte tengo le briscole ben coperte in mano e se le vorrai vedere sul tavolo ti basterà non perderti il prossimo video tra una settimana. Ma visto che sette giorni sono più di 10.000 minuti, investi in altri dieci per guardare questo video in cui ti spiego come fare davvero a guadagnare con gli investimenti immobiliari. E se le informazioni che diamo ti sembrano interessanti, iscriviti al canale e attiva la campanella. O se l'hai già fatto lasciami un like o un commento con la tua opinione. A presto!